Abbiamo visitato nei giorni scorsi l'Isis Giorgio Vasari di Feglini-Valdarno. In particolare con il professor Alessandro Valboni andiamo a conoscere meglio l'attività del laboratorio di fisica. È importante diciamo avere attivato questo progetto proprio perché noi si vuole che oltre a quello che viene fatto la mattina come dire seguendo i programmi ordinari potere fare un potenziamento in pomeriggio basato in particolare sia sulla misura che quegli argomenti che altrimenti la mattina non si riescano a svolgere. Per esempio faccio degli esempi di come lavoreremo con questa quarta. Adesso stanno facendo misure su circuiti di corrente, hanno fatto delle osservazioni sull'elettrostatica di modo che il laboratorio si va a vedere con i propri occhi, a misurare perché questo è fondamentale, la fisica è una scienza sperimentale, quello che altrimenti studiato la mattina potrebbe sembrare astratto e teorico. Non che la mattina in laboratorio non ci si portino, però questo potenziamento prevede un coinvolgimento esclusivo dell'attività di laboratorio. Qui abbiamo un semplice circuito che il prof ci ha dato, in particolare questo qua, dove vediamo che ci sono una batteria e due resistenze, qui abbiamo la batteria e qui invece le resistenze, qui invece abbiamo l'oscilloscopio che invece servirà a misurare la tensione del circuito. Io credo si sia l'unica scuola del Valdarno, ma penso anche della provincia di Firenze, a fare un'attività di questo tipo, cioè di avere dedicato una sperimentazione proprio al potenziamento laboratoriale e quindi alla conoscenza, alla presa ad atto da parte degli studenti di come si sta e come si lavora in un laboratorio. Questo è di fisica, l'altro sarà di biologia, sicuramente verrà allestito per l'anno successivo e insomma penso che questo con certi interessi ce l'abbia.